gioco forza Clavo premiamo lì forza forza Clavo vai dentro Tizio spingi spingi Umberto vai dentro umberto dentro vai Umberto vai Carlo forza ragazzi Umberto deciso dentro dentro subito guarda che esce quella palla forza qui in mezzo come decisi dai Umberto pronto vai Muito cinque umberto è tene come hai . Guarda che ce n'è fuori uno forse, eh sì l'Umberto si sta lasciando fuori dal campo. No non è l'Umberto, è Filippo. La macchina ti l'hai data? Alla... Avvocato... Bravo! Sostegno! Adesso passala, passala! Vai a placare! 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 È Muda! Passi, passi! Bene! Portalo fuori! Bravissimi! Passala ancora! Passala! Passala sta palla Alessio! Passala! Ti fa male! Ti fa male! Uno a uno! Un attacco! No uno! No uno! Forza! Un attacco! Ehi, come? Viva un attacco! Viva un attacco! Passala! Passa la palla! Arbitro! 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 ultima azione devi cambiarla quella palla devi cambiarla ragazzi dormiamo allora tutta in avanti fine per il tempo e poi la butta fuori dai a tre dai a tre dai a tre franchi 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 è solo lei dritto dritto ma no Corrono sempre sulla maledetta linea. Ale quando arrivi li chiudi. Dai Umberto! Dentro dritti! Dovete sfondare! Vai! Dentro! Vai sulla palla! Vai sulla palla! Ma quante squadre? Vincere! Vincere! Parca legante! Corri! Dai! Dai! Vai Giacolo! Vai Giacolo! Vai Giacolo! Vai Giacolo! Vai Giacolo! Sì! 57% sta ritornando per lui Giacolo. È un po' come, un po' come, questo. Convinto che la pare? 33! 년! In te pare ranno a partire soli nel fuoco. Illinois! E, ragazzi, in quarto agrone! Forza! Porta! Porta! Ah! Volgo. è un po' come la mia aprila quella palla lì aprila sotto su e va dai 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 aprila cambiala subito cambiala di la di la di la di la ma cosa cavolo grazie 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 secondi classificati categoria under 10 su su Eccoli qua